Nel sud della penisola del Sinai si trova Sharm el-Sheikh. Qui si viene rapiti da paesaggi mozzafiato, sabbia, rocce e montagne riarse dal sole che si tuffano in uno dei mari più ricchi di vita del nostro pianeta. Il Mar Rosso con i suoi relitti, i colori, i coralli e le infinite nuvole di pesci dà spettacolo. Grazie a tutti.